Cari amici, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Venerdì 2 luglio con traffico sostenuto soprattutto in direzione dei centri urbani per i consueti trasferimenti pendolari del mattino con l'inizio delle attività lavorative. Sarà una bellissima giornata di sole anche se la protezione civile ha diramato per oggi uno stato di allerta gialla per temporali sulla regione toscana. Monitoriamo l'area della 8, esattamente all'Ainate, come vedete flussi veicolari intensi e peraltro da poco verificato un incidente sulla strada statale 35 dei Giovi tra la tangenziale nord di Milano e Paderno Dugnano. Ci sono code anche sul tratto capitolino dell'A24 per 3 chilometri ma anche alla diramazione di Roma a sud tra Torre 9, grande raccordo anulare proprio per la difficoltà a immettersi sulle grandi raccordo anulare stesso che questa mattina è molto trafficato. Vediamo invece le criticità. Abbiamo delle code motivate da cantieri di lavoro sulla 9, lanate Chiasso, esattamente tra la barriera di Como Grandate e Como Monte Olimpino in direzione del territorio elvetico. Anche oggi per i programmati lavori di manutenzione si registrano code in area toscana sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, al momento sono di un chilometro tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione ai Firenze. Anche in A14 abbiamo delle criticità per lavori ma le code che al momento ci sono sia nel tratto marchigiano che nel tratto abruzzese, code in questo momento tra Val Vibrata e Teramo in direzione Pescara. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio e vi aspetto alle ore 7.20 circa all'interno di uno mattina estate. Vi aspetto tra poco, arrivederci.